Come ogni anno, l'Avis comunale di Cutro organizza una giornata di raccolta di sangue presso la frazione di steccato di Cutro. La raccolta è stata anticipata da una serata in fondo promozionale svoltasi il 26 luglio, durante la quale sono stati donati i palloncini con il logo Avis ai più piccoli, mentre ai grandi è stato distribuito un materiale informativo sull'importanza del dono. La giornata di raccolta, che viene inserita per far fronte alla carenza di sangue nei mesi estivi, si è svolta sabato 29 luglio. L'auto-emoteca dell'Avis ha sostato presso il bar Tabacchi Parioni, in via Mare Ionio. Le sacche prelevate sono state 23 su 28 partecipanti, due i nuovi donatori. Il presidente Giovanni Ape e tutto lo staff dell'Avis ringraziano i donatori per aver adempiuto al nobile gesto nonostante il caldo, rinunciando ad una bella giornata di mare. Un ringraziamento all'impeccabile lavoro dell'equipe medica, composto dal dottor Mario Rocco, dal tecnico Pasquale Maltese e dagli infermieri Gennaro Prestinice, Rocco Catalano e Baigio Montaruli. In ultimo si ringrazia il bar Tabacchi Parc Ionio di Carmine e Salvatore Enrico e il loro gentilissimo staff, per aver ospitato la giornata di donazione e per aver offerto, come ogni anno, la colazione ai donatori, al personale sanitario e a quella visino. I prossimi appuntamenti con la raccolta del sangue dell'Avis di Cutro sono sabato 5 agosto presso i locali della Scuola dell'Infanzia, Gioacchino da Fiore, nella bellissima location di Le Castella, giovedì 10 e domenica 27 agosto presso la sede di Cutro in Piazza Umberto I.